Verrebbe da dire che non c'è fine al peggio, che non c'è sensibilità nemmeno innanzi alla morte, che qualcuno non riesce a comprendere il limite del consentito e del cattivo senso, che la vergona non dimori più a casa di parecchie persone Sì, perché alla camera ardente di Maurizio Costanzo c'è chi non è uno scherzo ha chiesto un selfie alla vedova Maria De Filippi Esatto! A pochi metri dalla bara del giornalista, piuttosto che raccogliersi e riservare un pensiero al compianto conduttore Ecco che la voglia di strappare uno scatto con la regina di Mediaset ha prevalso E Maria come ha reagito? Dalle foto emerse si è prestata alla faccenda Conoscendola, non certo perché non vedeva l'ora di farsi fotografare Non le piace nemmeno nei momenti di serenità Con ogni probabilità alla De Filippi Per evitare qualsivoglia eventuale situazione spiacevole Qualcuno non si sa mai come potrebbe reagire ad uno no Si è messa in posa Con i suoi occhiali scuri E che selfie sia Due i casi ravvisati In un caso a chiedere la foto è stato un uomo In un altro una donna La questione sta già facendo parecchio discutere Sui social diversi coloro che hanno ritenuto Vergognosa La vicenda è che hanno sottolineato come in un momento così doloroso sarebbe stato da evitare un simile atteggiamento Ma come si diceva Per qualcuno il buonsenso è un miraggio Dannata sensibilità perduta Poco da discutere invece sull'atteggiamento di Maria De Filippi Che ha stretto la mano a tutti i visitatori Ringraziandoli per aver speso del tempo per omaggiare il defunto marito Per i selfie Come prima accennato Ha preferito non dire di no Anche in questo caso la conduttrice pavese è stata lucidissima Un suo rifiuto avrebbe probabilmente innescato un caso al contrario Con qualche sciocco che avrebbe gridato alla sua scarsa disponibilità Dando vita all'ennesima polemica stolta e sterile Il mondo dei social A volte Anzi spesso È diabolico Innanzi alla morte ci vorrebbe soltanto raccoglimento e riflessione Sicuramente non servono i selfie Innanzi alla morte ci vorrebbe soltanto raccoglimento e riflessione Innanzi alla morte ci vorrebbe soltanto raccoglimento e riflessione